La Ronde delle Canavese, la prima gara della stagione in Piemonte che si è disputata domenica, ha riservato diverse soddisfazioni alla scuderia Biela Motor Team. Alla fine i migliori sono stati Stefano Serini e Luca Ferraris con la Mitsubishi Lancer Ivo 9 che hanno chiuso diciottesimi assoluti e primi di classe N4. Il navigatore Alessandro Rappoldi, che correva con Antonio Rotella, Renault Clio, ha chiuso ventitresimo assoluto e quarto di classe Rally 4. Nella stessa categoria, nono posto, quarantasettesimo assoluto, per il navigatore Andrea Viola che faceva coppia con Fabrizio Babando su Peugeot 208. Seconda in A5, invece, Martina Decadenti che correva a fianco di Enrico Gatto su Fiat Panda Kit. Nella generale si è classificata cinquantacinquesima. Dodici posizioni dopo ci sono William Valetti e Vanessa Lai che hanno agguantato il quarto posto di classe N3 con la Renault Clio RS. Nella stessa classe, un'altra Clio, hanno corso anche Primino Clerico ed Enrico Friaglia. Settimi, ottantaquattresimi nella generale. Settantesimi, Alessandro Colombo e Matteo Grosso che hanno portato la loro Peugeot 106 Rally al primo posto di N1. Il prossimo weekend segna invece il debutto delle vetture storiche. A Varese si disputa il Rally dei Laghi per auto moderne al cui seguito corrono le storiche nel rally denominato Rievocazione Storica a Civarese. Partenza nel tardo pomeriggio di sabato 26 per la prima prova speciale. Le restanti sei si correranno domenica. Nel Rally dei Laghi la Biella Motor Team schiera il navigatore Alessandro Rappoldi al fianco del Lombardo Luciano Calini su Renault Clio R6. Il loro numero è il 51. Nel rally storico, con il 204, partono Claudio Bergo e Deraldo Botto con la Toyota Celica del quarto raggruppamento, mentre il 209 è stato assegnato alla Porsche 911 S del secondo raggruppamento di Franco Vasino e Fausto Bondesani. Due numeri dopo parte l'auto bianca 112 Abarth del terzo raggruppamento di Alberto Corsi e Ilaria Magnani. In Toscana, in provincia di Arezzo, si corre invece il rally storico Valle del Tevere, prova d'apertura del campionato italiano Terra. La scuderia biellese schiera con il numero 205 il navigatore Luigi Cavagnetto che correrà al fianco di Federico Ormezzano sull'abituale Talbot Lotus.